adesso qui abbiamo brandia scorciata verso la tomba di ragni trova una via a tutto il fondo della tomba mi piace molto sto fucile a pompa dove ti spacca quindi facciamo così è l'ideale per i ragni c'è provato c'è provato c'è provato è ancora vivo è rimasto impallato lì però con tutti questi obiettivi singoli penso che revolver l'elevata potenza del revolver abbiala meglio ok ora riproviamo ma stiamo scherzando però il revolver mi sa che è meglio a priori ok dai no sali su sali su sali su prima che qualcosa sparisce siamo andati vicini anche stavolta a crepare oh merda a becca di questa anche la lancia totalmente gratis non è niente male devo dire non è niente male allora lì pare interrotto qui non si sa cosa che proviamo a fare ah c'è il rampino e tirare il rampino la cazzo sempre il suo il suo perché poi qui secondo me lancia ci vuole no non ci vuole ci vuole solo assaltare ok di sotto si muove un ponte dove si muove il ponte prende la scorcia sotto il resto di un bei ragni vabbè usa i contrappesi per allungare il ponte quindi saltiamo di qua un contrappeso l'ho usato che schivata ragazzi lo togliamo rapidite devo dire questa lancia si apprezza con questi nemici oh bam tutti grazzo c'è malissimo non beccatevi qua no 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 aiuto ridatemi il mitra piazza una bomba proprio qua vi faccio saltare tutti per aria no ridatemi il revolver il revolver questi ragni giganti ok più o meno più o meno allora adesso mi sa tanto che dobbiamo far ruotare questo metterlo qui opla abbastanza facile recuperiamo l'energia e dungeon segreto ok ciao creepy ci becchiamo dopo buona cena tanto qua monoshottiamo tutti questi ragni a 1500 points ognuno non serve diamanti ovunque quindi cosa cosa vogliamo fare qui sotto che cosa c'è che cosa c'è vediamo possibile non c'è niente non è possibile siamo di qua adesso è il fatto che è tutto coperto le ragnatele vabbè c'è qualcosa ci deve stare no lì c'è solo lì quella torcia andiamo un po' di qua e va a cacare mettiamole tutti di qua prendiamo qua no il rampino non ne vuole sapere non sparare a cazzo in giro mina qua no no sì a parte farmi saltare in aree da solo non svolto forse c'è qualche passaggio che veramente vogliamo arrotolarci dentro ma dentro sti cosi ci dovrebbe stare un potenziamento c'è c'è una palla qua fuori ah non c'è più la luce quindi probabilmente era quello una valanga di mostri che uscivano e facevano prendere punti voglio credere che sia questo allora oddio forse no perché questo non me lo fa beccare quindi niente no veramente adesso no non influenza in alcun modo mi ha fatti saltare ma niente fai centro con un solo colpo fai centro che che ti va saltare sopra Cioè sto crepando E ora? Ok Ah bene Oh fuck Oh fuck Ok Ok Era quello Ora Palla per bloccare il fuoco Ah la lancia ha un potentissimo potere di impatto Per riuscire a tenerli bloccati Che non è male Perchè tutto one shot ai run in lenta però Solo una bandiera Contrappeso Altro contrapeso Ne manca uno forse Forse Quindi Andiamo di qua E qua E che palle Pecca di questo Ragno dei miei stivali Fuck Cioè mi fa malissimo Mi fa malissimo Cazzo Fregato Becco pure il pesco Allora Allora Qui Si può fare Che Si può fare Ah Interessantissimo Potevo farmela tutta rotolando Però invece no Ma dai Stiamo a scherzà Pistole Un bel pieno di munizioni Come il sanitario di essermi saltato Qualcosa di là Qui Quale lancia Ci si blocca Ok Non c'è un bel nulla Ultimo 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 Il ponte c'è Attraverso il ponte lungato E fuggi Della tomba Dei ranni Ok Ok Oh cazzo Un runner gigante Oh merda E' enorme Medikit Configgio la reggione Tutti i ragni La sotto che ci sta Oh ma qui Qui Che cosa abbiamo Un rampino Per calarci E prendere un bel potenzialmente Energia Di cui abbiamo profondamente bisogno Proprio profondamente Me ne ero perso prima E accattiamo altre Due munizioni Oh merda Adesso No questo non è giusto No non è proprio giusto Appenditi Wow 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 Ok Ok Totalizzato 200.000 Potevo fare 290 Ho fatto 226 Sconfiggio la reggione Di tutti i ragni L'ho fatto Raccoglio 10 teschi rossi Neanche per idee Allungo il ponte In meno di 4 minuti Questa roba da speedrunner Deve salto Sopra la trappola Tripla Facendo un colpo Nada In 12.54 Ok